ciao a tutti amici vediamoci insieme quest'altro nuovo video di questo pane fatto con soltanto farina di tipo 1 del molino cipolla di terracina seguitemi allora qui ho preparato il licoli che l'ho fatto espresso cioè ho preso un pezzettino di pasta madre e l'ho trasformata in licoli proprio per fare questo tipo di pane ho preparato la farina farina di tipo 1 l'acqua e il sale adesso verso direttamente dentro la ciotola della planetaria 70 g di licoli non sto pesando perché forse era un pochino di più non è molto idratato questo oligoli e forse ho messo meno acqua ma non importa ecco qua ora lo sciolgo con un po di acqua l'acqua che ho preparato per eseguire la ricetta quindi con la stessa acqua già pesato ho l'acqua pesiamola sempre perché se andiamo a vedere questi contenitori con con i segnetti di ml di solido non sono mai precisi quindi la pesiamo tanto l'acqua il peso è uguale alle ml e milligrammi una volta sciolto sciolto il lievito butto di botto tutta la farina qui andrò a fare una un autolisi un autolisi con tutto il lievito questa volta mi piace anche un po sperimentare quindi ci metterò piano piano più della metà dell'acqua non è che mi metto lì a misurare la metto fino a che non vedo che tutta la farina si è inumidita continuo a mano così controllo meglio ok voi già sapete che l'autolisi aiuta aiuta molto la lievitazione vedete l'acqua è rimasta così sui 150 adesso mi fermo l'altra la giungo dopo quindi dicevo l'autolisi aiuta molto la lievitazione quindi è sempre bene farla quindi copro con un cielo e aspetto aspetto mezz'ora almeno 30 minuti poi trasferisco tutto sotto la planetaria l'impastatrice piano piano finisco di mettere l'acqua è rimasta quindi giro a media velocità e mano a mano vedete scusatemi aggiungo l'acqua scusate ancora la voce un pochino rauca ok passerà qui naturalmente come sapete ho fatto dei tagli per non annoiarvi più di tanto continuo a mettere acqua piano piano così mi regolo anche se ci vuole tutta se ne posso mettere un'altra pochina poi la fine vi metto la dose giusta continuo a girare poi alla fine aumenta un pochino la velocità ma non più di tanto è io al massimo la manda metto a 4 proprio al massimo ci metto anche il sale bene adesso momento un pochino per far incordare verrà un impasto abbastanza idratato e sto vedendo farò queste pagnottine e voglio provare a fare anche una laminazione anche se non sono molto d'accordo per questa tecnica che adesso va tanto di moda ma per il pane fatto in casa così non serve serve soltanto per particolari tipi di pane più compatto particolari tipi di di panini di rosette eccetera bene una volta incordato lo metto sul piano di lavoro la laminazione naturalmente va fatta al secondo impasto e qui faccio una serie di pieghe lo faccio prima riposare un attimo 10 15 minuti e faccio due giri di pieghe vedere molto molto appiccicoso ancora quindi molto idratato ok una volta pronto lo metto dentro la ciotola la solita ciotola con un filo d'olio così e lo lascio lo lascio fino a che non aumenta di volume qui potrei fare anche un altro giretto di pieghe anzi lo faccio in ciotola direttamente in ciotola così migliora un pochino che lo vedo molto non proprio incordatissimo quindi mi aiuto con le pieghe in questo modo ok va già meglio già lo vedo meglio bene lo copro con la pellicola ci metto anche il coperchio perché ci sono i buchini laterali vedete quindi lo copro così e lo lascio aspetto che raddoppia un pochino ed eccolo non è cresciuto proprio tantissimo adesso vediamo quello che possiamo fare con le pieghe però è bello l'impasto molto bello diciamo che si è allargato dentro la ciotola e quindi non sembra sia cresciuto tantissimo allora proviamo a fare questa laminazione che poi la laminazione io da come ho letto va fatta ad impasti meno idratati però adesso voglio farla anche per farvi vedere perché non perché non sa non conosce questa tecnica la faccio si la faccio ora e poi non la faccio più ve lo dico sì avevo fatto anche dei panini di un'amica si sono venuti anche bene però io non lo so da quello che leggo non la vedo una cosa necessaria quindi va allargata vedete deve venire come un lenzuolo praticamente in questo modo scusate i miei braccioni ecco qua piano piano l'allargo e poi poi va piegata fatta come le pieghe a tre praticamente quindi bisogna alzarla scusate l'inquadratura ecco qua e piegata vedete si lavora male perché è molto molto irritato ok piego ancora davanti così e vai e adesso ancora e questa è la laminazione praticamente è una sorta di pieghe a tre ma fatta con la pasta sottile diciamo industrialmente la fanno con le presse fanno con le presse fanno delle delle sfoglie così ho letto almeno quindi ecco perché non è indicata per il pane fatto in casa adesso lo pillo un pochino così lo copro e lo lascio lo lascio un pochino una mezz'oretta allora adesso senza toccarlo tanto metto solo un po di simola appena appena la metto la metto intorno così se mi serve la metto sulle mani e lo allungo solo perché voglio farci due pagnottine pagnottelle diciamo impasto da 600 grammi quindi sarà presso a poco un chilo di impasto ce ne farò due così posso regalarne una per la mia nipotina la più piccola perché le altre non mangiano mangiano poco pane invece la più piccolina gli piace il mio pane quindi una pagnottina gliela darò adesso comunque lo vedo bello malgrado la laminazione vedo le bolle quindi dovrebbe riuscire bene anche se morbidissimo avvicina i lembi in questo modo per formare la prima pagnottella così vedete che ancora appiccica mettiamoci un po di semola ok una pirlatina e la prima è pronta andiamo con la seconda poi le metterò dentro il cestino no perché sono grandi i cestini le metterò su un telo sul recipiente con un telo con la semola addosso attorno allora io sto facendo questo questo impasto iniziato nel pomeriggio adesso siamo arrivati a sera quindi non farò in tempo a cuocerlo stasera perché altrimenti dovrei cuocere a mezzanotte quindi farò un passaggio in frigo ma lo faccio soltanto perché ho iniziato nel tardo pomeriggio se voi iniziate la mattina potete fare tutto in giornata a temperatura ambiente quindi gestite come meglio credete questo impasto i tempi di lievitazione ok fino a qua ci siamo adesso ho preparato un recipiente che è un suolo praticamente ecco qua con un telo piegato alla metà ce n'è un pezzo rialzato metto tanta semola ok e li metto così in modo che si tengono si tengono sono pagnottelle quindi femmine si tengono appoggiate e crescono non si allargano di molto bene nostre non ne facevano così e mettevano tutto il pane dentro dei teli poi la mattina infornavano ci metto la semola sopra copro e come vi ho detto prima metterò in frigo perché non mi va di fare tardi è già tardi quindi non ce la faccio a fare tutto in serata ma anche perché voglio fare il pane domani mattina così per pranzo è ancora fresco allora in frigo ci va una busta perché altrimenti si inumidisce il telo e inumidisce anche il pane quindi ci va una busta ora ce ne metto un'altra dall'altra parte in modo che non si forma l'umidità la mattina lo tiro fuori presto l'ho tirato fuori alle 6 di mattina poi mi sono rimessa a letto ho cambiato il telo sopra ci ho messo un asciutto l'ho tenuto un'ora e dopo un'ora ho acceso naturalmente il forno per portarlo a temperatura a 220 questa volta non a 250 come faccio sempre perché sono piccoline quindi e poi non voglio farle cuocere tantissimo non voglio non voglio farle bruciare diciamo un pochetto meno cotte le voglio fare allora quando il forno è quasi a temperatura me le preparo vedete questo è la nuova lametta ordinata su amazon carina vero mio marito si è arrabbiato perché ci ho messo tanto per fare quella così artigianale fatta da lui però volevo cambiare prenderne una un pochino più decente allora con le mani ho messo le ho tirate fuori mi dispiace che è saltata la sequenza non capisco non l'ho registrata forse comunque piano piano lo tirate fuori con le mani e appoggiate delicatamente sulla carta forno e sulla pala in modo che poi farò scivolare come faccio sempre già lo sapete sulla teglia calda che ho nel forno i tagli non vengono benissimo perché sono morbidissime anzi devo pure sbrigarmi e infornare non vorrei che mi si allargano troppo quindi faccio dei tagli veloci così ok il forno nel forno ho messo due spruzzi di vapore se non avete il forno con il vapore fatelo con uno spruzzino spruzzate all'inizio tanto e poi dopo cinque minuti un altro spruzzo ok infiliamo la lametta perché è pericolosa lasciarla aperta e adesso faccio scivolare nel forno caldo a 220 gradi come vedete si sta alzando avevo paura visto che le ho viste un pochino che sono scese che non si alzavano invece si sono alzati un pochino ma non troppo proprio così le volevo perché troppo ammollita e non va bene queste sono pagnottine che debbono comunque rimanere non dico basse ma insomma leggermente basse vedete si sono cotte all'incirca con 40 minuti ascoltiamo ok volutamente non le ho fatte abbronzare più di tanto come vi ho detto la mia nipotina piace un pochino morbido come questo vedete l'ho tagliato quando si è raffreddato un pochino e dentro è morbido beh devo dire che è venuto bene adesso laminazione o no comunque è bello dentro sarà merito anche della farina del molino cipolla sicuramente bene amici vi ringrazio della visione e vi invito a condividere il video a lasciare un like a cliccare sulla campanella sulla campanella per ricevere le notizie le notifiche dei miei nuovi video ciao a tutti ciao 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 ciao